Il CR offre delle soluzioni altamente tecnologiche per il settore delle macchine e attrezzature per la costruzione, quindi nell'ambito dell'edilizia, nello specifico attrezzature ad alta tecnologia per il calcestruzzo e il cemento. Il CR prosegue la specializzazione da parte di CR in settori altamente tecnologici dove la qualità, il prodotto e soprattutto il ciclo deve rispettare non soltanto delle esigenze dal punto di vista normativo tutti i nostri prodotti sono tendenzialmente a bassa emissione ma devono anche offrire delle garanzie di durabilità e di altissima resistenza. Il CR ha un ciclo studiato per macchine ad alta performance per il trasporto del calcestruzzo alcuni nostri clienti hanno omologato questo ciclo che parte da una base di primer all'acqua ad alta resistenza ad alta performance e una finitura che ha una durabilità e una resistenza nel tempo comprovata e certificata. Il CR si pone quindi al massimo, al top, per quello che è non soltanto la finitura ma anche la necessaria proprietà che i prodotti devono mantenere nel tempo quindi il CR è al top di gamma nell'ambito della verniciatura di questi manufatti. Grazie a tutti! Grazie a tutti!